Nell'ultimo bilancio sociale, che è stato presentato proprio qualche giorno fa, è emerso il dato di una riduzione dei reati in provincia di Catanzaro, però un aumento dei reati nel capoluogo. Secondo lei, come mai? Da che cosa è di peso? Ma innanzitutto parliamo sempre di piccole cifre. I reati che si sono registrati in leggero aumento su Catanzaro città sono quelli contro il patrimonio. Non c'è un motivo preciso. È nella dinamica e nella fisiologia della criminalità che possono esserci momenti in cui c'è un picco, a momenti in cui è chiaro che di fronte a degli aumenti, noi che monitoriamo quotidianamente queste cose, adottiamo le nostre precauzioni e quindi modifichiamo, tariamo e calibriamo i servizi sui fenomeni. Infatti in questo periodo sono stati intensificati sia come azione preventiva sia come attività investigativa e mi auguro che quanto prima, anche perché come spiegavo pure giorni fa, questi lavori hanno un loro iter previsto dalla normativa, dalle procedure, quindi dal lavoro nostro, dai tempi nostri, dai tempi della procura, dai tempi dei giudici e io mi auguro che quanto prima riusciremo a mettere le mani su questi soggetti schigge un po' impazzite che ci vanno facendo un po' di danni in giro. Lei ha parlato di un lavoro complicato per voi perché sul territorio c'è una criminalità che si impuove anche nelle cosiddette alte sfere che è molto pervasiva, soprattutto all'interno del sistema economico e politico. In effetti è un po' la caratteristica dell'andrangheta negli ultimi anni. L'andrangheta ha capito determinate cose e quindi si muove in determinati ambienti, quindi lì dove ci sono fondamentalmente soldi. E quindi per fare questo ha chiaramente agganciato anche la politica proprio per poter gestire gli apparti, per poter gestire i contributi, specialmente quelli finanziamenti europei, eccetera. E quindi è chiaro che non è una criminalità questa visibile per cui anche da parte degli organi delle forze di polizia gli sono dato un furto, gli sono dato una rapina, insomma più semplice e più facile investigare e gestire. Per arrivare in certi ambienti o ci vuole qualcuno che parli, confessi, oppure scattano determinati meccanismi di indagine che a volte possono durare anche parecchi mesi. Quindi magari quello che si è visto negli ultimi tempi è il frutto di attività investigative che sono andate avanti negli ultimi anni, le attività investigative che abbiamo in corso adesso magari porteranno il loro frutto tra qualche mese, tra qualche anno. Sono indagini lunghe, indagini che comportano tanta pazienza, tanto tempo. Infatti parlava anche lei nei giorni scorsi di un salto di qualità delle cosche, di questo stretto contatto con la politica. Cos'è cambiato negli ultimi anni? E questo rapporto stretto nell'approccio dei reati, non solo per quanto riguarda l'Andrangheta e i rapporti con la politica, ma più in generale con la procura guidata dal dottore Gratteri, ha portato dei risultati amplificati, maggiori? Le forze dell'ordine, la polizia in particolare, si sentono parte ancora più forte di una squadra che sta portando risultati sul territorio? È una squadra molto bella, il procuratore lo ripete sempre. Noi lo ringraziamo per questa fiducia, fiducia che però si tramuta poi in dele, che si tramuta in lavoro e si tramuta in risultati con i tempi che occorrono. Però l'importante è che si registra questa sinergia tra la procura e le forze di polizia e che comporta i risultati che in effetti abbiamo visto in questi ultimi anni da quanto il procuratore Gratteri e il procuratore della DTA di Catanzaro. Nei giorni scorsi abbiamo avuto il piacere di avere il capo della polizia, Gabrielli, per una bellissima iniziativa che è stata l'inaugurazione della sezione delle Fiamme Oro al Polifunzionale. Tra l'altro il suo arrivo è coinciso con degli episodi di microcriminalità che hanno allarmato molto i cittadini sia nel centro storico del capoluogo che nel quartiere Marinaro. In quell'occasione Gabrielli ha annunciato l'arrivo di altri agenti. Sicuramente sarà un grande sollievo per la questura, soprattutto per affrontare questi episodi di microcriminalità. Per affrontare tutta quella che è la criminalità di Catanzaro e della Calabria. Devo dire che il capo della polizia c'è molto vicino e conosce molto bene questo territorio e quindi si rende perfettamente conto delle forze che servono per far fronte a questo particolare tipo di criminalità. Del resto lui lo ha ripetuto e da tempo lo va ripetendo in ogni sede, questa deprecabile politica degli ultimi anni che aveva bloccato i concorsi e quindi il turnover e il ricambio non solo nella polizia ma anche nelle altre forze. Fortunatamente questa situazione si è sbloccata da qualche anno e quindi incominciamo adesso a vedere i primi frutti. I concorsi nostri sono un po' lunghi perché comportano varie prove fisiche, psicoattitudinali, orali, scritti e poi c'è da frequentare il corso di formazione che dura per quanto riguarda gli agenti otto mesi. L'altro giorno hanno giurato 216 agenti a Vipo Valencia e questi arriveranno insieme a quelli che sono usciti in contemporanea e altre scuole sul territorio nazionale usciranno proprio in questi giorni e quindi verranno distribuiti nelle varie questure d'Italia. A Catanzaro ne arriveranno altri 22 e quindi diciamo che nell'ultimo anno noi abbiamo avuto 40 agenti in più e questo sicuramente dà un respiro di sollievo anche a quelli che lavorano perché in parte sono andati sicuramente a sostituire i colleghi andati in pensione negli ultimi anni che non avevano avuto cambio. E in parte saranno qualcuno sicuramente in più, verranno distribuiti un po' a tutti gli uffici e mi auguro quindi che le cose sicuramente nel 2019 andranno meglio da questo punto di vista. Un tema specifico che riguarda il capoluogo è quello nella zona sud che è sempre più un fortino in mano alla criminalità gestita dall'etnia Rom. L'impressione a questo punto è che non basti la repressione ma serve anche ovviamente una politica di prevenzione che dal punto di vista sociale e le istituzioni dovrebbero fare di più. Lei che cosa ne pensa? Io penso sempre, l'ho sempre detto e ve lo ripeto anche in questa circostanza, che la sicurezza è un bene molto complesso perché è dato dal risultato del lavoro di vari attori e quindi chiaramente non solamente le forze di polizia, non solamente la magistratura, ma tutte le istituzioni, ognuno per la parte di sua competenza, deve dare una mano per quello che deve essere fatto. E quindi anche in questa circostanza sicuramente noi tra l'altro ci facciamo anche promotori di questa collaborazione, di questo andare continuamente da uno, da un altro e da un altro per sollecitare, sollecitare collaborazione proprio perché se vogliamo avere dei risultati veri, sicuri e duraturi nel tempo dobbiamo operare insieme. Signor Questore, dulcis in fundo il tema dell'immigrazione che ovviamente ha un impatto sul lavoro della Questura. La domanda ovviamente è che cosa cambierà, che cosa è già cambiato con l'entrata in vigore del decreto sicurezza. Per quanto riguarda la Questura e quindi la parte autorizzativa del Questore sono cambiate sicuramente alcune cose. Innanzitutto è scomparso il soggiorno per motivi umanitari che il Questore prima rilasciava, nella maggior parte dei casi, su richiesta delle commissioni territoriali per l'esame delle domande e delle richieste di asilo politico. e quindi adesso c'è tutto un bel po' di persone che non potranno più avere questo soggiorno per motivi umanitari. Vediamo come vanno le cose. Magari in tanti... Questo vale anche per i minori, perché spesso le commissioni ci chiedevano per i minori. Quindi adesso i minori potranno chiedere la minorità, che consentirà poi anche la trasformazione del permesso di soggiorno per lavoro o per studio. Quindi è una situazione che è in fase di evoluzione. Poi c'è il permesso di soggiorno per motivi di salute. Quindi molti stanno incominciando a chiedere il permesso di soggiorno per motivi di salute. Però penso che tante domande dovranno essere respinte, perché non ci sono le condizioni per il rilascio di questo tipo di permesso di soggiorno. Poi ci sono altre tipologie che sono nate, tipo per calamità nei paesi di origine, ma queste figure ancora non abbiamo riscontro di richieste sul territorio. Ma c'è il rischio, secondo lei, concreto che la chiusura dei CAS, dei CAR, insomma, porti in mezzo alla strada tanti di questi migranti, che aumenterebbe la loro presenza in strada e quindi aumenterebbe il rischio per la sicurezza? Questo vediamo. Sono tutte cose che dobbiamo vedere quello che succede. Certo, chi ha diritto potrà rimanere, chi non ha diritto si dovrà vedere di farli lasciare il territorio nazionale. Ma allo Stato il problema per noi è proprio quello, che tante volte non riusciamo a dare corso ai decreti di escursione, perché le procedure sono lunghe. Più un cittadino straniero che non ha titolo a rimanere sul territorio nazionale, delingue, automaticamente più permane la sua presenza sul territorio, perché nasce un procedimento penale. Pensate, quando prendiamo uno straniere che ne tiene tre o quattro di procedimenti penali, si deve andare a fare la ricerca di questi, chiedere ai magistrati nulla osta l'escursione. Quindi sono procedure un po' farraginose, però i diritti sono quelli e quindi noi dobbiamo seguire, noi siamo esecutivi, quindi la legge che c'è deve essere applicata. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro, auguri.